La classica fuga, quella che nessuno ormai si aspetterebbe più, e invece proprio scappando dalla finestra di un bagno, come faceva a suo tempo l'ex boss della malla del Brenta Felice Maniero, che il 54enne Dragan Maledonovic, componente della banda che ha messo a segno il furto di gioielli a Palazzo Ducale lo scorso gennaio, è riuscito a scappare, a due giorni dal suo arresto. La polizia croata infatti l'aveva bloccato giovedì scorso alla frontiera con la Serbia, suo paese natale, mentre tentava di fuggire senza riuscirci. Ma lui ci ha riprovato, di andare in prigione proprio non ne voleva sapere, e così, in attesa di essere interrogato dal giudice, è fuggito. La polizia serba però riferisce che il 54enne avrebbe aggredito un agente gettandolo sul pavimento per poi dileguarsi. In ogni caso ora è libero e le ricerche devono ricominciare, perché in Serbia si nasconderebbe anche il sesto membro della banda, Goran Perovic, l'uomo che secondo alcune ipotesi investigative croate avrebbe in mano il bottino, i gioielli della collezione delle Miro che vennero fatti sparire dalle teche di Palazzo Ducale e di cui attualmente non c'è traccia. Un valore sul mercato di 8 milioni e 600 mila euro. Ma secondo la magistratura italiana è un'ipotesi lontana, come aveva dichiarato il procuratore all'indomani dell'arresto. Allo Stato i gioielli non sono stati ritrovati, sono in corso ancora delle perquisizioni in territorio straniero. Certo il tempo trascorso dal fatto, che ricordiamo è dei primi di gennaio 2018, non fa ben sperare, almeno allo Stato, sul ritrovamento dei beni sottratti. Disappunto e grande sorpresa è quanto espresso dal questore di Venezia Vito Gagliardi dopo aver appreso la notizia della fuga del ladro.